Al salone del 4x4 più importante d'Italia, con uno stand ispirato alla natura, perché è nella natura che le nostre 4x4 trovano rispettosamente il loro primario luogo di divertimento per alcuni di lavoro. In uno stand, dicevo, completamente rinnovato e di grande emozionalità, presentiamo una versione speciale e limitata di Jimny, la nostra icona, la vettura che ha permesso al marchio Suzuki di farsi conoscere agli italiani all'inizio degli anni Ottanta. Si chiama Jimny Shinsei, un termine giapponese che significa sacro, intoccabile, perché per noi Jimny rappresenta un'icona sacra e intoccabile, tanto da celebrarne l'arrivo sul mercato italiano con una livrea che richiama quella dei Jimny originali che furono costruiti solo per il mercato giapponese all'inizio degli anni Settanta e che grazie alla passione di un collezionista abbiamo potuto portare e che si trova alle nostre spalle dietro la Jimny. La livrea quindi è quella con gli stessi colori dell'inizio degli anni Settanta, infatti si chiama giallo scuro degli anni Settanta o Dark Yellow Seventies, una livrea esclusiva creata ad hoc solo per questa vettura, con i richiami degli specchi color bianco e del paracoppa color bianco proprio come la progenitrice di Jimny. I cerchioni rigorosamente in acciaio, rigorosamente neri e un grande tetto apribile con un effetto plein air, quasi un effetto cabrio che porta la natura anche all'interno dell'abitacolo. Ne costruiremo solo 100 per 100 appassionati del marchio e 100 appassionati del modello Jimny, una per ogni città.